siamo a venerdì e come sempre come ogni venerdì torniamo a parlare di etf di quelli che io potrei valutare di inserire nel mio portafoglio ed in particolare oggi parliamo dei vari portafogli cosiddetti lesi quelli per i quali grandi investitori hanno creato dopo varie prove e per questo motivo possono essere indicati per vari investitori che hanno esigenze diverse tra cui la prima è quella di non perderci troppo tempo dietro di non starci troppo tempo dietro ma semplicemente andare ad esempio a ribilanciare magari una volta all'anno settimana scorsa abbiamo affrontato la prima parte di questo video in cui davo le varie filosofie di alcuni di questi portafogli e la loro allocazione ed oggi invece andiamo a cercare di vedere di quali etf usits possiamo andare a utilizzare per ricreare qui in europa ma tutto questo subito dopo la sigla ciao a tutti bentornati sul canale io come sempre sono pasquale questo risparmio il canale del vostro investitore e risparmiatore della porta accanto oggi ci rifacciamo una bella scorpacciata di portafogli di etf andiamo a completare il discorso delle quattro scelte fatte la settimana scorsa dei vari lesi portfogli esistenti e cerchiamo di ricrearli con quello che il mercato attuale di etf usits al momento ci offre in europa farò delle scelte ponderate sostanzialmente le più sensate possibili ma sappiate che non è detto che si riesca a replicare questi portafogli al cento per cento e lo vedremo con tutti i portafogli e quello all weather magari lo noterete di più solo perché il più famoso ma tutti hanno lo stesso problema e lo andiamo a discutere già dal primo in ogni caso ci si va molto vicini ricordo prima di cominciare di andare a pc quali erano i quattro portafogli che avevamo scelto il primo era il rifa un portfoglio di taylor larrymore semplice da fare e da ribilanciare in quanto composto solo da tre asset il rifa un portfoglio è concettualmente composto dal 48 per cento del total stock market americano il 12 per cento da azioni del resto del mondo e il 40 per cento da intermediate bond che sono le obbligazioni di durata fra i due e i dieci anni poi abbiamo il no brain portfoglio di william bernstein autore dei quali ho visto in sito diversi libri qui sul canale a volte chiamato anche simpleton portfoglio ed è uno studio interessante sull'asset allocation anche questo molto semplice da gestire con solo quattro asset class nel portafoglio l'allocazione che bernstein suggerisce per questo portafoglio il 25 per cento di large cap americane 25 per cento di small cap americane il 25 per cento di azioni internazionali ovviamente esclusi gli stati uniti in america ed infine il 25 per cento di short term bonds che sono quelli di durata fra uno e tre anni il terzo portafoglio il 712 di craig is last land il più complesso non per la creazione ma perché ha molteplici asset da gestire il nome deriva dai 12 diversi fondi del portafoglio che vengono distribuiti su sette diverse asset class abbiamo le azioni usa grande media piccola capitalizzazione azioni non statunitense sia sviluppate che emergenti immobiliare risorse naturali merci obbligazioni usa nominali e tips infine obbligazioni non statunitensi e cash la diversificazione standard è il 12 e mezzo per cento di large cap americane 12 e mezzo per cento di small cap americane 8 3 per cento di azioni internazionali non usa esclusi mercati emergenti 8 3 per cento di mercati emergenti 17 intermediate bonds americani 8 3 per cento di obbligazioni internazionali 8 e 3 per cento di liquidità 36 per cento di commodities incluso oro e infine 8 3 per cento di riz il 4 è il famosissimo all weather direi d'aglio sempre sulla bocca di tutti per bassa volatilità rendimenti più che soddisfacenti e di un comprovato back testing delle ho progettato un portafoglio per avere successo in qualunque situazione dei mercati qualunque cosa accada qualunque siano le dimaniche in corso la sua composizione il 30 per cento di total stock market americano 40 per cento long term bonds americani quelli sono da dieci anni in poi 15 per cento di intermediate bonds americano 7 e mezzo per cento di commodities e infine 7 e mezzo per cento di oro adesso andiamo al pc e vi faccio vedere come li ho legati e creati io e poi torniamo qui per le ultime considerazioni allora eccoci qui sul primo portafoglio prima di cominciare a spiegarvi cosa ho scelto io voglio spiegare anche come l'ho impostato è molto semplice qui in alto a sinistra abbiamo i vari ticker iisin il nome dell'etf la ponderazione secondo il portafoglio appunto che abbiamo scelto e il ter per ogni singolo etf da quest'altro lato invece vediamo anche come ponderato in termini visivi per cui grafici e qui troviamo i rendimenti del portafoglio a un mese sei mesi un anno cinque anni dieci anni e trent'anni e anche i loro rendimenti aggiustati all'inflazione degli stati uniti d'america partiamo appunto dal primo portafoglio che è il free funds portafoglio il più semplice diciamo dai costruire da gestire e come vediamo già qui abbiamo una certa differenza che troveremo anche negli altri portafogli il primo etf è un i share sull'esp 500 in realtà molti di questi portafogli si riferiscono non all'esp 500 ma al total stock market il famoso etf che negli stati uniti si chiama vti ai vti che sta appunto per per vanguard total stock market e che va a ricoprire non 500 neanche le 2000 aziende del russell 2000 ma di più sono 3500 le posizioni diverse all'interno di questo etf per cui noi in europa per creare quel tipo di ponderazione uguale avremmo dovuto prendere sia l'esp 500 che il russell 2000 che qualche altro etf che andasse a coprire tutte le azioni mancanti questo come si può capire non è possibile però possiamo dire senza ombra di dubbio che l'esp 500 è quello che tira quasi totalmente il mercato per cui andare a investire il nostro 48 per cento in una share o in un vanguard o in qualsiasi altro etf che segue le semplici 500 ci va a dare anche quelle stesse performance che ci darebbe il vti per cui ho scelto il css px per quanto riguarda le semplici 500 per andare a prendere le aziende internazionali purtroppo presso le svda per cui l'i share che fa a coprire le messi ai world perché non esiste attualmente per noi retail un etf che segua il mercato mondiale escluso gli stati uniti d'america purtroppo questo non c'è si può fare molto probabilmente con dei fondi ma non è nelle nostre possibilità per cui in questo caso anche questo va a deviare un pochettino quella che è la performance nonché la costruzione totale del portafoglio il trifounds anche per quanto riguarda i bond non riusciamo ad avere gli intermediate bond perché in quell'arco temporale avremmo dovuto includere tutto quello che va fra i 3 e i 10 anni per cui avremmo dovuto includere due etf uno che coprisse fra i 3 e i 7 anni e l'altro fra i 7 e i 10 ma purtroppo tale strumento non esiste che li copra tutti e per cui ho cercato di orientarmi sulle sulle duration che vanno dai 7 ai 10 anni in realtà questo poteva anche andarsi a prendere con un 3 5 con un 3 7 ovviamente ognuno fa la propria scelta questo è uno dei modi per dimostrare che effettivamente costruire questi portafogli al 100 per cento fedelmente così come vengono costruiti negli stati uniti è impossibile portafoglio che in 30 anni ha restituito l'8 e 39 per cento aggiustato all'inflazione un 5 80 per cento comunque è un buon rendimento se si guarda alla scarsa volatilità tanta diversificazione e semplicità di costruzione e di gestione passiamo al secondo il non brainer portafoglio anche in questo caso abbiamo dovuto cedere qualcosa perché abbiamo il vanguard fuzio al world che include tutto il mondo inclusi però anche gli stati uniti d'america che andiamo a trovare anche come large cap nel gslc e come small cap nel cs uss per quanto riguarda il fuzio al world appunto abbiamo scelto il video pvce della vanguard e per quanto riguarda gli short term bond in questo caso abbiamo un 1 3 anni che non si discosta molto dalla strategia originaria e il 3 scritto tre e poi 3 a numero che gioco di parole in questo caso spendiamo qualcosina in più di terra rispetto al primo portafoglio portafoglio che nei 30 anni ha donato un 8 e 13 per cento aggiustato all'inflazione un 5 e 55 per cento diciamo avendo rendimenti forse un tantino più semplice anche da ponderare perché in questo caso essendo 25 per cento ciascuno è anche più semplice da gestire in termini mentali però in linea di massima è un portafoglio molto interessante anche questo passiamo a quello più complesso il 7 12 portafoglio con tutte le sue ponderazioni in realtà qualcuno l'ho dovuto arrotondare perché non mi dava il 100 ma sono pochi decimi percentuali per quanto riguarda le large cap ho aggiunto gslc un goldman sachs active beta sul us large cap anche in questo caso il fuzio world per le internazionali però anche in questo caso eccediamo perché andiamo ad aggiungere all'america la share small cap abbiamo aggiunto prima per quanto riguarda gli emerging market ho aggiunto le imi la share core msa emerging market i treasury ho ripreso quello di prima per quanto riguarda gli intermediate il 7 10 anni il trex per quanto riguarda il cash ho scelto questo qui che è un next trackers xt 01 che appunto prende i bond che vanno più o meno fino all'anno o due di duration per cui bond molto corti per quanto riguarda le commodities l'enco lg multi strategy and hence commodity per quanto riguarda invece le azioni governative che non siano americane ho scelto l'etf gg amundi prime global govis appunto va a replicare le obbligazioni governative dei paesi sviluppati per quanto riguarda invece il real estate ho preferito usare l'ex res in vesco us real estate sector questo portafoglio è molto più difficile a gestire e forse anche per questo motivo si fa notare che sui 30 anni il rendimento è stato un 7 46 per cento con un rendimento aggiustato all'inflazione del 4 89 per cento questo forse è quello più debole anche se in realtà è quello sinceramente più diversificato e se notiamo è anche quello che ha più costanza nel tempo perché se andiamo a vedere gli altri tre alcuni di questi negli ultimi periodi hanno subito un po più il colpo questo è molto meno volatile e ha tenuto molto di più sia in termini totali che in termini reali aggiustate all'inflazione ha molta meno volatilità per cui più difficile un costo diciamo in media a parte le small cap qui i tele sono tutti molto bassi però comunque è un qualcosa da valutabile per chi voglia appunto andarsi a orientare per una soluzione un po più diversificata un po più complessa e ha magari un po più di pazienza a gestire tutti questi etf ultimo portfoglio il famosissimo all weather anche questo qui nell'ultimo anno ha un po oscillato poi nell'ultimo periodo però comunque ha dato negli ultimi 30 anni un 8,15 per cento totalmente aggiustato all'inflazione 5 56 per cento per cui si fa vedere che comunque rispetto agli altri non è quello che va a rendere meglio perché abbiamo il no brainer 555 un 580 per il trifound e 5 e 56 per l'all weather per quanto riguarda invece le mie scelte anche in questo caso l'all weather dovrebbe avere un vti un vanguard total stock market o comunque un stock market totale 3500 aziende non lo ha anche in questo caso ho optato per la share core s&p 500 per quanto riguarda i bond a lunga durata ho optato per l'us 10 che è l'ixor us treasury 10 and plus per cui tutte quelle obbligazioni da 10 anni in poi 10 15 20 e così via in questo caso per l'intermediate ho usato il 7 di 10 anni il trex ma in realtà visto che ci sono delle durazioni molto lunghe da 10 anni in poi si poteva anche optare per qualcosa che fosse fra i 35 fra i 37 questo è un po più una scelta personale per le commodities ho usato anche qui l'lg lenco lg multi strategy enhanced commodities che però devo andare a menzionare in questo caso purtroppo non ci sono etf che escludono dalle commodities i metalli petrosi in particolare l'oro perché ovviamente nessuno pensa che si vada a escludere dalle commodities l'oro per cui per ponderare meglio questo portafoglio molto probabilmente un etf che vada ad avere una multi strategy sulle commodities andrebbe forse ponderato in maniera minore in questo caso visto che c'è già dell'oro qui bisognerebbe andare a studiare molto più approfonditamente quanto oro ci sia nell'enco per poter ponderare anche l'SGLD sull'oro il physical gold A in ogni caso sono quattro portafogli lesi molto conosciuti molto stabili poco volatili e con rendimenti che sinceramente fanno bene alla maggior parte delle persone fanno gol alla maggior parte delle persone che non vogliono tanta volatilità vogliono comunque un rendimento che sia costante nel tempo e non vogliono scocciature a creare portafogli azionari obbligazionali fatti per conto proprio che vanno rimaneggiati di volta in volta qui abbiamo quattro piatti pronti ma i freddi sempre alla giusta temperatura e ognuno poi faccia le proprie valutazioni adesso ritorniamo al mio brutto faccione e facciamo le ultime considerazioni bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video dammi le tue impressioni su questa costruzione dei quattro famosi l'Sportfoglio dei grandi investitori ovviamente come ho fatto vedere non posso ricrearli al 100 per cento ma ho scelto degli determinati etf avresti scelto gli stessi o diversi dammi una tua idea su come questi possono essere validi o meno se possono essere delle soluzioni particolarmente interessanti e se secondo te ci sono delle migliori o se li usi già nei tuoi investimenti spero di avere un tuo feedback qui sotto di poter avere da parte tua un contributo per fare crescere la community cerchiamo come sempre di aiutarci a vita renda con tanti commenti cambiandoci opinioni e aiutiamoci a crescere sempre e comunque come sempre ti chiedo di lasciare un bel pollice in su per l'algoritmo di youtube e se sei nuovo sul canale di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto successivo oggi è venerdì e come ogni venerdì è l'ultimo video della settimana per cui noi torniamo lunedì prossimo con buonanotte mercati per iniziare una nuovissima settimana editoriale l'unica cosa che posso dirti è che ti auguro un felice e sereno fine settimana ciao ciao